e adesso Don Antonio Mazzi a proposito di chi a Milano lavora con gli ultimi da sempre e conosce benissimo anche gli angoli bui Don Antonio un abbraccio. Io più che partire da Milano parto da Venezia stamattina. Eccolo la frase le fotografie migliori in questo tempo le fanno le possanghere. Le fotografie migliori in questo tempo le fanno le pozzanghere? Riflettendo chi lavora per aiutare. O metteteci quello che volete voi nel riflesso. Sì è vero. Metteteci dentro voi quello che volete voi però in questo momento è questo. Il vero nasce da lì dalla sofferenza. Don Antonio grazie. Grazie mille. Buon lunedì. Ciao. Buona settimana. Ciao. Allora.